Tanti anni della mia vita c'erano inattentate di tutto. Sono calata tutt'oggi 39 kg. Ho perso in totale 29 kg. Il futuro esiste? No, voi lo prendete, voi lo rappresentate come sarà. È stato l'anno della mia rinascita. Sono uscito da diverse diete, tutte catastrofiche, perché non mi riusciva di mantenere i risultati. Ero quindi scoraggiato e non volevo più seguire diete. Mi sono fidato, sto seguendo il programma Bioimis e in quattro mesi ho perso 47 kg. Quindi sono più che soddisfatto, più contento e molto felice. Devo dire che anche se ho perso tempo ho perso 10 kg e ho provato di tutto, diete di qualsiasi genere, con farmaci, tutto. Questa è l'unica che funziona. Ho fatto diete di tutte le specie e ora non credevo mai che questo sistema potesse funzionare così bene. Pariere molto positivo, visto che mi ha fatto perdere 47 kg in 6 mesi. Ho perso 62 kg in 9 mesi quasi, cosa che non sono riuscita mai a fare. Una vera e propria scuola alimentare che ti permette di cambiare la filosofia di vita. Grazie a tutti. Buon appetito! Io mangiavo il salmone crudo vent'anni fa. Le foche! Ora siamo noi a mangiare del pesce crudo. E perché lo mangiamo? Penso che Bioimis sia davvero un'ottima opportunità per le persone che comunque hanno problemi di sovrappeso e di obesità Il concetto che si mangia a sazietà e non si ingrassa è una cosa veramente fenomenale Grazie a Bioimis, grazie a Serena, grazie a tutti i vostri, a tutto lo staff Grazie ancora Però visto che abbiamo le quantità, proviamo anche per gioco a vedere cosa succede Quante calorie introducono Chi ha fatto delle diete e sa di che cosa si parla E' raro che un nutrizionista dia una dieta giornaliera di 2800 calorie 15 kg in tre mesi Adesso sta facendo mattini meno 24 anni Ho perso 14 kg in due mesi Il percorso che ti ha soddisfazione Io ho perso 17 kg in due mesi E altri 4 adesso è un martedì Quanti kg hai perso? Grazie a tutti 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 Bioimis